non vedo niente troppo sole allora come va ragazzi vorrei essere arrivata che che mi dice quanto andiamo e quanto vento c'è ho fatto una media di 9 abbondanti adesso siamo con una mano di terza roli eccoli la persino una con le vele in carbonio e catamarazzo anche vedere le facce manca solo bug che sottorbitando